ciao a tutti sono federica e bentornati su white knight allora dopo innumerevoli tentativi ho capito cosa bisogna fare in realtà io ho fatto tutto giusto ovvero acceso la luce qui e ho tirato via il pannello davanti al lucernaio e fin qua ci siamo ora dobbiamo tornare nella stanza di qua ecco qui è semplicemente qua per terra ci dice che un parche scricchiolante nasconde sempre qualcosa e possiamo spostarlo era semplicemente questo la targhetta sulla chiave diceva scantinato era il momento di andare sotto terra sì perché noi ci siamo fatti tutto il giro fino a qui e ora dobbiamo ritornarci ne giù allora sulla chiave era scritto scantinato la stretta la bocca dello stomaco mi diceva di non andare la sotto nelle tenebre più impenetrabili poteva solo essere peggio ok quindi bisognava semplicemente controllare qua cosa che io non avevo capito ho provato come mi avete detto voi ho spento tutte le luci ho provato a vedere se la luce che c'è qua sopra si accendeva ma non c'è nessun interruttore a un'altra cosa nel controllare mi sono accorta che possiamo anche cambiare le diapositive il piano terra le tracce portavano a sottoscala esatto è proprio lì che dobbiamo andare mi sa quella porta c'era qualcosa lì dietro dobbiamo seguire le impronte sì finché stiamo qua dentro prima o poi impazzeremo non avevo mai visto quella stanza ma ne sentivo l'odore di sangue e poi ritorniamo a questa ok quello che dobbiamo fare adesso è praticamente ripercorrere tutta la strada fino a tornare a questo punto allo scantinato visto che abbiamo la chiave dello scantinato io praticamente ho preso la chiave e basta non so altro mi sono fermato ho detto ah ho capito cosa bisogna fare e sto registrando allora qui c'erano dei fiammiferi vai ok quindi torniamo indietro o selena il protagonista si avvicina in modo sexy tra l'altro tocca un fantasma non so come cavolo fa però si sta innamorando di un fantasma che cavolo succede ah oh cavolo aspettate selena era di fronte a me la luce di mille stelle come aghi nei miei occhi disabituati alla luce la sua mano era calda senza peso poi giunse il terrore qualcosa dietro di me la fece fuggire di nuovo ok dice che c'è un lupo che dobbiamo fare in fretta allora ok cavolo ok morto qualcuno sentito urlare c'è una cosa salviamo prima di andare avanti c'è un bel salvataggio perché sarà dura tornare al piano terra tra l'altro per venire qua abbiamo girato tutto dietro nel secondo piano mamma mia allora no no scusate non volevo leggere volevo accendere uno che ovviamente non non li accende ok recuperare questi e andare dobbiamo fare in fretta detto oh cavolo selena è stata pugnalata è morta così quindi che che aspettami ok quindi è stata pugnalata perché non mi fa leggere scusa non potevi aspettare a fare il caricamento stavo leggendo ok ok c'è del sangue oh mamma cos'è toh ah scusa eh ma non posso vedere nell'oscurità dai lo accendi o no come faccio a rispondere vabbè chi se ne frega eh richiamerà sarà qualcuno che mi vuole dare qualche promozione ok io seguo le strisce di sangue vederla sanguinare significava vederla morire dovevo agire in fretta sì 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 ok ok allora il problema è che se corro i fiammiferi mi si consumano prima che cavolo succede? ok non sta bene questo uomo ok vai 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 allora devo andare oh c'è un fantasma no 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 mi ha preso non vedo ok sì mi ha preso ma non si vedeva un cavolo allora faccio così entro nella stanza destra vediamo se riesco a rispondere adesso vai 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 rispondi ma scusate ma sì è vero eravamo noi eravamo noi all'inizio del gioco che cazzo sta succedendo? perché? perché? Cavolo, perché ho guadagnato un achievement? Quello sconosciuto al telefono, ore prima, ero davvero io? Lui era nel suo incubo personale adesso, il mio non era ancora finito. What? Non capisco. Ok, questo l'abbiamo già letto, però lo leggo lo stesso, così. Vai. Ok, ora voglio entrare subito nella stanza qua. Ok. Sì, voglio fare il giro dall'altra parte, praticamente, di qua. Sperando di non incontrare nessuno. Ok. Questa era chiusa? Sì. Ma noi eravamo passati di qua, dall'armadio. No, nell'armadio. Davvero non posso più andare? Ma che fregatura! Quindi mi devo per forza rifare tutto il giro. Oh, cavolo. Ok, ma c'è lì il fantasma proprio davanti. Aspettate. Riprendiamo fiato. Cioè, è proprio qui. No, ok. Forse l'ho saltato. Aspettate. Mi metto qua, perché di là dovrebbe apparire l'altro. Eccolo. No. Forse ho visto male. No, eccolo. Ah. Non venire qui, ti prego. Oh, cavolo. Vai, 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 vai. Corri, 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 corri. Aiuto, dove erano le scale qua? Vai. Oh, mamma. Sto sudando. L'abbiamo driblata, come al solito. Ok. Lo scantinato era sotto le scale. Come dalla diapositiva. E comunque basta seguire le strisce di sangue. Un percorso segnato dal suo dolore e dalla sua paura. Come una scia. Ma sei ubriaco, amico. Non ce la fai? Dei problemi seri, questo tizio. Era qui? No? Aspettate. Perché non è qua. Sì, è lì. Però c'è la tizia davanti. C'è un fantasma qui e lì. Merda. Ok. Qua c'era un interruttore, però. Io me lo ricordo che qua c'era. Eccolo. Ok. E questo di qua? Ok. Perfetto, perfetto, ragazzi. Ce la facciamo. Vai. Ok. Siamo dentro. Questo l'avevamo già letto. Sì. Bene. Mettiamo la chiave e vediamo che diavolo succede. Ci servono fiammiferi. Siamo per finire tutti i fiammiferi. Ah, scusa. Accendi. Eh, anch'io sarei terrorizzata. Oh, abbiamo finito un altro capitolo. Meno male. E voilà. Tra il cacciatore e le sue prede. Ok. Proseguiamo, ragazzi. Allora, prima di seguire il sangue, vediamo se c'è qualcosa qua. Fotografia. Sempre di Margaret, presumo. Non si capisce. Sempre non la faccia, non si vede mai. Ok. Non siamo messi bene a fiammiferi, però... Porca miseria. No, mamma mia, quante sono! No, 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 lasciamola lì. Cavolo. Aspettate perché... Allora, qui c'è una lampada e un fantasma. Qui posso salvare. Quindi c'è una luce da accendere qua attorno. No. Mamma mia, aspettate. Qua. Manette e catene. Il sangue sembrava ancora fresco. Uh, cavoli, facevano... Delle torture qua sotto. Tracce di sangue secco sulle manette. Sembrava che le vittime si fossero dimenate violentemente. Provai a non pensare a cosa il lupo potesse aver fatto loro. Oh, non lo voglio sapere. Qui? No, ok, quello di prima. Le strisce di sangue vanno di là, però io volevo comunque verificare... Cos'è? Qua c'è qualcosa da leggere. Nota di una vittima, numero 8. Mia adorata, è stata una notte meravigliosa, questa passata con te, e lo voglio fare ancora. Non curarti di ciò che potrebbe dire la gente. Loro non capiscono, ma io sì. Capisco le tue preoccupazioni. Ci sono passata anch'io. Devi uscire dalle ombre per trovare la luce. Non devi gridarlo per strada, ma solo essere onesta con te stessa. Lascia che ti guidi verso la libertà. Sei la donna più bella che abbia mai visto. Voglio unire le mie labbra alle tue, i miei capelli ai tuoi, piegarmi su di te e perdermi nei tuoi occhi, le tue mani sui miei fianchi. Vediamoci stanotte, verrò a prenderti. E chissà se è mai andata a prenderlo. Qui c'è un fantasma appeso. Ok, dove eravamo prima praticamente. Vai, raccoglio anche l'ultimo. E allora proseguiamo di qua. Seguiamo il sangue. Che va alla porta. Qui c'è l'interruttore. Ok. No, 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 no. Aspetta. Aspetta che mi è passata davanti. Ok. Vai, vai. Di qua. Maledetta. Anche l'altra. Ok. Vai così. Perfetto. Ok. A meno li abbiamo uccise tutte e due. Non ho quella sensazione di avere qualcuno addosso. Qui si può salvare. C'è un interruttore sicuramente. Ah, no. Aspettate. Posso... Posso fare così. E metterlo qua e salvare, tipo. Secondo me. Ok. Però vediamo prima di capire cosa devo fare qua. Questo l'abbiamo letto. Era quello di prima, sì. Cos'è? Qualunque cosa fosse successo in questo posto era pura follia. Allora, ho aspettato. C'è qualcosa che mi manca. Non ho capito. Vediamo cosa c'è di qua. Ok. Corridoio che prosegue. Ah, un'altra valvola. Forse la valvola controllava l'afflusso d'acqua. Sì, ma non so... Un'indicazione, qualcosa. Me la date? Oh, oh. Aspetta. Ok, forse questa è un'indicazione. La pianta dello scantinato era una prova tangibile che il mondo intorno a me aveva ancora un senso. Mi cegrappai disperatamente. Vi prego! Cioè, mi immagino lui con la cartina in mano che piange. No, fatemi uscire! Dunque, dunque... Ah, ok. Questa è quella dell'acqua. Dove siamo adesso? Aspetta, aspetta. Un tubo utilizzato forse per fornire acqua all'intera villa. Questo? Ecco il mostro a cui portavano... Il mostro? A cui portavano quei tubi. Qua non mi fa fare nulla. Qui. Una valvola che apparentemente collegava lo scaldabagno al resto della villa. Il diagramma dei cablaggi era chiaramente collegato al quadro elettrico. Qualcuno aveva lasciato un appunto riguardante il quadro elettrico. Eh, ma non lo posso vedere bene. Qui. Le scale dalle quali ero arrivato. Le scale. E c'è questa valvola qua. Questa è quella che ha appena girato di qua. E quindi ce n'è un'altra più avanti sulla destra. Vediamo. Dovrebbe essere qua più avanti sulla destra, se ho capito la mappa. Oh, aspettate. Non posso vedere. No, 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 no. Che cavolo, aspetta perché non so cosa bisogna fare. Questa si accende. C'è un fantasma in fondo. Porca miseria. Tutto questo sangue, il sangue della luna, impossibile. Aspettate, no, qui diventa troppo enorme però. Allora, voglio capire se qua possiamo accendere questa maledetta luce. Aspettate, se io faccio il giro di qua... Quello è il pulsante per la luce? Ok, 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 ragazzi. Ci siamo, va bene. E fin qui è ok. Il sangue va di qua. Seguiamo. Mi sembra di vedere roba... Ok, qua c'è un'altra porta. Allora, aspetta, vediamo di qua cosa c'è. Le tracce però vanno di qua. Vediamo. La lampada era rotta, mi restavano solo i fiammiferi. Non avevamo dubbi. Ah, c'è l'altra valvola, eccola, eccola. E un diario di Selena. L'estratto 9. Mi sveglio in una stanza che non ho mai visto. Un'anziana donna di colore lavora a maglia in un angolo. Mi dice, piangi e dimentica, bimba. La vita continua. Mi metto una mano sulla pancia e capisco. L'hanno portato via. Il mondo mi crolla addosso. Sono a Rockford, Illinois. Non ho soldi. Sono distrutta. La donna mi permette di restare qualche giorno in più. L'hanno pagata per quello. Non mi dice niente. Ma so già abbastanza di mio. Trovo un lavoro da cameriera in una bettola fuori città. Voglio cantare, ma dalla mia bocca non esce niente. Dopo un po' smetto anche di piangere. Non ho più lacrime da versare. Né per me, né per il figlio che non avrò mai. Una cosa è sicura. Presto tornerò a New York. Ok, questa è l'altra valvola. Anche se non ho capito come dobbiamo metterla. Cosa ho fatto? Sentivo l'acqua scorrere nelle profondità del semi-interrato. Ok. Allora ho fatto qualcosa, eh. Va bene. Qui cosa c'è? Movimenti nel buio, ratti o forse peggio. Non voglio saperlo, non voglio. Fiammiferi, che mi sono sempre, sempre utili. Un'altra luce. Bene. C'è un barile qua. Vai, tira via ste mani. Sti fiammiferis. Mamma mia. Non riesco più a parlare. Vai, sposta sto barile. C'è una porta segreta. C'è Selena. Eccola. Senza lo strumento giusto non avrei mai rotto quelle assi. La sua ferita mi perseguitava. Feci del mio meglio per raggiungerla, ma l'assassino era più veloce di me. Ma in quale realtà? La vita di Selena era come un ricordo infinitamente ripetuto. Ma anche i ricordi possono morire. Eh, cavolo. Eh, quindi devo tornare indietro. Allora. Prima di tutto, lì c'era una porta. Qua. Dov'è? Vediamo cosa c'è qua dentro. C'è un fantasma. Ok, sì, dovrò tipo attivare quella roba di là. Lo scaldabagno non funzionava, ma emanava ancora un leggero calore. Se qualcuno l'aveva utilizzato durante il giorno, forse sarei stato in grado di farlo anch'io. Ok. Devo capire allora come sistemare questa cosa qua. Va bene ragazzi, allora facciamo così. Stoppo qui e ci vediamo nella prossima parte. Bye! Buongiorno. Ciao. Ciao. schöne. ma.